Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro per il Tank e questo nuovissimo video che faccio questa volta con Magic in Fortnite Raccontami un po' cosa faremo oggi Allora, ho fatto una partita in cui, soprattutto nel finale, quindi guardatelo fino alla fine perché è la fine, la parte migliore Ho usato una strategia, poco ortodossa chiamiamola, per sopravvivere Non sono arrivato primo, però sono andato abbastanza avanti Io non ho ancora visto questo video Lui non l'ha visto, quindi vedremo un po' cosa penserà di questa strategia particolare, chiamiamola così Quindi partiamo Ecco qua la nostra partita, signore Ok, purtroppo la rec è iniziata dopo, quando ero già atterrato, però avevo preso solo un'altra cazza e basta Una recensione su TripAdvisor Esatto È iniziata dopo Nulla di particolare Tra l'altro ultimamente cado sempre qui in queste partite, è un buon posto Un posto spettacolare Ah, il ponte Dove c'è Pierino che fa la cacca Sotto il ponte di Malacca Ammazzano, ammazzano Subito una kill Subito una kill Vabbè dai, era disarmato poverino Ho sentito bene, era disagiato? Ha detto disagiato? Certo In questo gioco si alterna, non partite buone, partite schipose Qua ero pure in save zone già all'inizio, quindi Si parte bene Si legge sul banco Qua ci vuole la kill, ci vuole, la kill C'è nessuno, non c'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno Ho fatto un altro tesoro Wow E' un altro beverone Cos'è? Il beverone è quello che ti dà lo scudo Questo qua Il coso blu Questo Si droga Lei crede di avere lo scudo E' fatta di MD E allora si vede gli scudi attorno Guarda un scudo Noi eravamo in programma di fare una partita tra di noi con suo fratello da casa sua, no? Che tra l'altro avete visto nel video di... Del calcio Dello speciale 500 Esatto Che mi metto qua sopra Poi non siamo riusciti perché il mio Fortnite sulla mia Playstation ha deciso che era il momento di aggiornarsi E allora fuck Pacco Possiamo andare avanti Raga, faccio una cosa e voi vedrete subito la parte interessante Eccoci qua ragazzi Riprende la parte un po' interessante Esatto Anzi, è questa la parte più interessante Perché A parte che mi sono ritrovato in safe Ed ora questo è la mia strategia per arrivare in fondo, diciamo Diventa l'uomo pianta Anzi, la donna pianta Esatto Questa cosa qua l'ho fatta con le cuffie Perché senza cuffie in sto gioco tu non puoi giocare Se vi ricordate il video che ho fatto con Alan Che vi metto anche questo qua L'avevamo fatto senza cuffie Infatti non sentivamo Anzi, addirittura senza audio in generale Non sentivamo niente Non sentivai niente Ha fatto anche la cacca dietro questo cespuglio E mi sono pulito con le foglie Giusto In natura si usa quello che hai Esatto, quello che hai Proprio a disposizione Siamo nei primi 24, signori Vedo Dalla mappetta Da sotto alla mappetta Sì, che poi ero in safe a culo Cioè, andando in giro a caso Vi giuro Mi sono ritrovato due volte in safe Tanta roba Perché ci vuole anche un po' di fortuna Per fare una buona partita Sì Assolutamente Come la prima kill Che, come dicevi, hai fatto Con lui che non aveva niente Anche se Ciao Stai partecipando a un video Saluta Antonio Tra l'altro io stavo giocando con mio fratello accanto Qua, ecco Qua sentivo dei passi nelle cuffie, ragazzi Qui sentivo dei passi nelle cuffie Allora girava pian piano perché voleva fare la scena epica in slow motion No, perché se mi giro in alto Usciva la testa dal cespuglio E quindi Mi giravo piano Comunque adesso Si vede Una tizia Io sono tipo a 10 metri da lei E non mi ha visto E cosa sta facendo? Sta cagando Anche lei dietro un albero Ma E aveva un fantastico scar Leggendario Però Un botto di roba Aveva un botto di roba Ed era lì AFK Credo Non so che cazzo stesse facendo E niente Pure cose per guarire Fin qua continuavo a lasciar giù L'unica cosa che non dovevo lasciar giù E dopo aver depredato la mia vittima Ritorniamo nel cespuglio È stato così proficuo Non mi ha proprio visto Vi giuro è stata una roba assurda Io sentivo i passi di sti qua nelle cuffie Mi son girato e l'ho visto lì che non mi ha visto È stato stupendo E sono ancora in safe Io ho visto la partita di Dread La prima che ha fatto Ho avuto un culo della madonna E se l'è giocata malissimo Perché non sapeva le cose base Però C'è una persona C'è una persona là Sulla montagna Mi faccio il zoom adesso Lì Si vuole suicidare Ah no si ferma No in realtà si mette a distruggere Quella cosa che è accanto Da qua non riesce a sparare No Volendo sì ma mi sarei fatto gamare Quindi ho detto Lasciamolo lì Sì sì bene Non ho il cecchino Lasciamolo lì Siamo nei primi 15 signori Qua non si scherza Fateci sapere se volete un video assieme Esatto Bravo Nei commenti Anzi no Mi lanciano il fondaggio Ora Classico sondaggi Vota Vota Maledetto Tutti Se non sapete dove trovare i sondaggi È quella I Che vi appare in alto Voi ci schiacciate E vi appaiono tutti i sondaggi Votate Primi 8 signori Primi 8 Sì sì guarda che Funziona sta tattica ragazzi È la tattica del camper Adesso non ero più in safe Ecco Però io ho detto Finché ho tempo È vicina Questo posto Ci devono passare Per arrivare in safe Da qui no Giusto E infatti è quello là Vedete Che corre come un forsennato Avevo preso l'arma Quella potente Quella epica Ecco Guarda Cioè ragazzi è stato Ok lasciate stare qua Che l'ho Ripetita Primi L'ho mancata Cioè io Io non sono scarsissimo Però in quel momento Vi giuro In quel momento Adesso sono morto Sono arrivato a sesto Ma in quel momento Immaginate di essere lì Nel cespuglio E questo qua Che vi passa accanto Non vi vede Io Mi stavo pisciando addosso Da ridere Poi è arrivato sto qua Che Cioè Avrei dovuto usare Il fucile a pompa E li avrei segati Tutti e due Però in quel momento lì Ero troppo esaltato Perché questo qua Mi è passato accanto E non mi aveva visto Se volete potete Utilizzare questa Stratagia Che tanto ho scoperto Che già la utilizzano Beh giustamente Le cose vengono scoperte Sì esatto Comunque ragazzi Vi ringrazio tanto Per la visione Vi invito a cliccare Mi piace se il video vi è piaciuto E iscriverlo al canale Se ancora non l'avete fatto Commentate E scegliete nel sondaggio Se volete Facciamo un video assieme Su Fortnite E se vi è piaciuto Lasciateci un commento Per farci capire Che vi è interessante Fateci sapere Anche se vi funziona Anche a voi Questa strategia Esatto Lasciateci Le vostre recensioni Vi auguro Una buona continuazione E ciao ciao belli Ciao 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 SMI Ciao 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 like